Musica Questa è un'occasione unica Per la Moldavia Noi stiamo contribuendo a far crescere Il livello dei chirurghi Protesisti del domani Io dico sempre Quando noi lavoriamo bene Lavoriamo col cuore, con la passione Lavoriamo in team Riusciamo ad attrarre a noi Le menti migliori, le mani migliori E questo è importante Nell'ottica di costruzione di un team Questi sono servizi che non si possono Offrire solamente Con prodotti Di qualità Ma soprattutto con collaborazione Tra giocatori Attaccanti, difensori Portieri, qua tutti sono importanti Perché stiamo facendo ogni giorno Cose molto complesse Io da solo per esempio non riuscirei a fare Certi lavori così complessi Come un odonto tecnico da solo non può Un chirurgo non può E un lavoro di squadra E qua stiamo costruendo le squadre Del domani Che aiuteranno milioni di malati in Europa Oggi qui a Chisinau abbiamo parlato di impianti zigomatici Di impianti pterigoidei Di impianti nasali E come risolvere I casi di gravi atrofie e osse Del macellare superiore Grazie a tutti 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 Grazie.